E ciao a tutti amici sono Rana Sgao ed eccoci qua con un nuovissimo video delle sponsorizzazioni Se volete essere anche voi sponsorizzati mi raccomando cliccate mi piace su questo video Attivate la campanellina iscrivendovi e commentate nei commenti con scritto hashtag sponsorizzami Il primo canale che vorrei sponsorizzare si chiama Carlo The Gamer o Xcheriz Che praticamente sul suo canale porta per lo più video di Minecraft e reaction E ha iniziato anche lui a fare le sponsorizzazioni infatti è arrivato anche al quarto episodio Vi consiglio di passare dal suo canale iscrivetevi attivate la campanellina Il secondo canale che vorrei sponsorizzare si chiama Gaming House Fa per lo più video di Fortnite fa anche giveaway infatti c'ha anche un contest mi raccomando date a vederlo Iscrivetevi il terzo canale che vorrei sponsorizzare si chiama Panzo TV Porta per lo più Fortnite e Minecraft sul canale ha anche portato un tutorial di come scaricare Sony Vegas se vi interessa E andate sul suo canale iscrivetevi Il penultimo canale che vorrei sponsorizzare si chiama IETV Che porta per lo più Dream League Soccer e altri giochi vari tipo Granny E passate dal suo canale a 54 iscritti e iscrivetevi L'ultimo canale che vorrei sponsorizzare ma non per importanza si chiama Warrior Black E' un ragazzo che fa video di Minecraft, di Paladins, di Fortnite, di tanti giochi vari E va spesso in live come potete vedere live 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 Ma fa anche video che sono molto interessanti E infatti il video che state vedendo in sottofondo è un video su Fortnite che ho realizzato con lui Quindi andate sul suo canale e iscrivetevi Quindi se volete essere sponsorizzati anche voi Cliccate mi piace Iscrivetevi, cliccate sulla campanella E commentate con hashtag sponsorizzami sotto i video Ciao e alla prossima E' bucchiato sta casa Infatti stavo già morendo Oh no cazzo non posso No guarda che infame adesso ti vengo d'aiutare No scialla scialla Aspetta Ah che io GG Warry Ammazza l'altro che era per terra Però prima bevi lo scudino Ah Quel cazzo che mi toccate Ammazza il tizio per terra Che cazzo è andato? Era qua in giro Forse è morto No non penso Cazzo stanno arrivando Lo zio non il culo Bevi gli scudini L'ho ucciso, l'ho ucciso penso Non ho più munizioni ti rendi conto? Lol Dai Ma tipo velocizza il video di Fortnite No ma tanto registriamo un altro dopo dove ci sono anch'io La cazzo appena vieni vi sparo un cazzo di questo mi faccio Ah l'ho ucciso l'ho ucciso L'ho ucciso Ecco ti ha dato un altro kill Che sono in due Sono nel culo Eccolo Esci dalla casa Aspetta Mi ha visto? Si Minca E niente Ma neanche tanto No no mi fa incazzare l'autobus Tipo è già su Su Sull'isola E ti mette 15 secondi Ma dove stai andando te? Eh per scendere più in basso Ma a caso È inutile È inutile Nessuno ci va lì Ce ne sai Ma te lo dico io Cazzo Arrivo pure A piedi Eh Sì Sì A piedi arrivo Vabbè A prima cazzo è mia Che mi serve un po' Un po' Sai un po' Un po' Tipo di lì Che spara tanto Quelli che mi serve Con lo tattico Sì Quello là Ok Non mi ricordo di nuovo Eccolo ho trovato Ah c'è gente sopra di noi Eh Scialla Lasciali Miche se No no Aspetta Devo Se su Fortnite Hanno messo tipo Dietro la cascata Tipo Una grotta Spero di sì Ora metteranno Di sicuro Che la cascata Che cazzo serve Non muoio? No Quindi non hanno messo niente Stanno massacrando Da sopra Vuoi un po' Del nonno blu? Sto prendendo Questo qua verde Però Se me lo vuoi dare E' qua E' qua Fatti un po' Di materiali Sì ma Non è 66 Sì ma Brava Tanto Tanto distruggi Tanti Tanti Saliamo sull'isola C'è qua il portale C'è qua il portale Dove? Qua Ti vedo Ah ok Arrivo Saliamo sopra vero? No andiamo in safe Vai Vai Ma perché Ma perché non mi segui Ti ho detto Vieni qua da me Pensavo che Scendevi spinnato Ma guardami Guardo Ti sto guardando Non sembra Non c'era una cassa qua No? No no Proviamo ad andare Verso Di qua Un po' qua Quanto per Attento che poi Può arrivarci La gente Da sinistra Eh Stanno sbagliando Ah è vero Che da loro Ci sono tanti Portali Quindi Ciao Oh c'è il QVQA Mi chiede Ritornato V di nuovo Secondo me Sta facendo Tutte quelle scritte E poi Tutta la mappa Avrà la gravità Zero No per me Tipo Distruggerà Pinnacoli Cioè non Pinnacoli Il lago E ci metteranno Un vulcano No secondo me Sta Cioè tutte quelle scritte Che ci sono Sulla mappa Può diventare Una pupula Gigante Cosa? Sta facendo Un rumore Pazzesco Aspettami Non andare da solo Tanto questa Qua Penso Questa Una casa Non lucca Forse Sta distruggendo te Le cose Mi sto prendendo Scudo Vieni qua Nella zona del cubo Ti da scudo Ah serio Dov'è? Sì sì Ma sei tu che Oh dov'è? Stai Grande 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 Mi hai rubato La kill Ma fa niente Brigette Sta arrivando Qualcuno Con Paracadute Vieni Vieni Attento Stampevo io Minchia Prendi le granate Le granate Quelle lì Che ce la fai No Non ce la fai Scendere Shiftati 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 E niente Mi ha boccato Tra i finestrini Ja Mi Fa Si Si AAAA Si 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 Sau Suave fills oit Yo Si 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 Grazie a tutti